Oggi Bomboron e Porto Montalbano, da dietro, andiamo! Ieri eravamo su quel monte l'ora. Abbiamo passeggiato in un boscatore infrescante. Giù in città c'erano più di 30 gradi probabilmente. Qua invece all'ombra si sta benissimo. Un bellissimo cafferrala dietro. Un bella cerrada. Non absolutely. Ci sono i potenti mai personalizzando. Ho ancora visto. Iniziamo il peso della lonna di stars. Chovi passi The L задач. Il porto di Montalban Il porto di Montalban c'è la vista più bella sulla rada di Villefranche E' forse una delle viste più belle di tutta la costa Il porto di Montalban Grazie a tutti. Grazie a tutti.